E' uscita la notizia che il 2 novembre, sabato scorso, sulle lapidi del cimitero di Papozze, in Veneto, sono apparsi dei solleciti di pagamento. Dici, ma pure lì? Perché erano scadute le concessioni. Il sindaco, non sapendo dove recapitare questi solleciti, ha detto, sapete dove li metto? Lì, incollo alle lapidi. Naturalmente, grandi proteste per la mancanza di tatto. Io però, personalmente, mi metto nei panni di questo sindaco. Ma diversamente, come avrebbe fatto? Perché lì c'era da battere il muro più alto che esista, quello che separa il cuore dal portafogli. E sappiamo che non è facile. Che impressione ne trai tu? Ma, insomma, io sono qui per parlare anche del mio spettacolo, iniziare parlando del mio spettacolo, partendo da un cimitero, mi sembrava una promozione perfetta. Perché no, 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 però, scusami, però, in realtà, poi, c'è anche un cimitero. Sembra più da me. Beh, insomma, la Chiesa è riuscita a battere la distanza Chiesa Cattolica, avevano il purgatorio. Ha creato un'unione, un filo rosso poetico anche tra i morti e i vivi, no? Ma tu ti saresti arrabbiato trovando un sollecito di pagamento sulla lapide di una persona? Io sono per incenerire i corpi. E anche le bollette. Quindi è curioso le porta a casa, per cui anche lì diventa un fatto tuo privatistico, diciamo, la gestione del cadavere, diciamo. E cosa devo dire? Noi abbiamo pensato, quando andiamo nei piccoli centri, che sono abbastanza spopolati, e vediamo questi fantasmi un po' che si aggirano, e si fermano soprattutto su quei cosi che annunciano che è morto serenamente, si è spento. Noi avevano sempre pensato di fare i manifesti dello spettacolo, con fatti listati a lutto, così si fermano a vedere chi è morto. Il tuo spettacolo si nota all'imbrunire, che già, voglio dire, l'imbrunire. E al teatro Parenti. No, ma si vede molto lo spettacolo. No, ma infatti... No, però sembra fatto apposta per parlare di muri, perché in realtà si occupa di quello che io penso sia il padre di tutti i muri, che è quello che ognuno di noi costruisce dentro se stesso per non sentire il dolore. C'è una frase bellissima che volevo commentare con te, che dice che ci vogliono gli altri per farti sentire davvero male e proprio anche davvero bene. Gli altri sono il rischio, l'incidente, la possibilità. Da soli è un po' triste, ma non si soffre. Che è una cosa che abbiamo pensato tutti nella vita, no? Cioè la vera felicità, il vero dolore ce l'hai quando incontri qualcuno. Quando sei da solo sei un po' alla colla. Sì, un limbo di... No, diciamo, il testo è scritto da Lucia Calamaro, che è una delle... Non so, la voglia di dire Massini. Dopo, insieme a Stefano Massini. Guardate lo sguardo. Una promettente drammaturga, molto donna. Donna? È donna, quindi anche questo, a proposito del calcio qui, insomma, faccia le donne. E il personaggio si chiama Silvio Calamaro. Lei si chiama Lucia Calamaro, mi chiamo Silvio Orlando. Lo sappiamo. Quindi è diventato Silvio Calamaro, che è una perfetta sintesi. È cercato una perfetta sintesi sul suo teatro, che è abbastanza radicale, abbastanza improponibile nei teatri così normali, nel circuito normale che frequento io. Lei si è immaginata questo fatto di quest'uomo che ha perso la moglie e che da quel momento si è chiuso. Tu la chiami l'anoressia dell'anima. Sì, è una patologia che è stata studiata dai soliti studiosi americani, molto ben informati, ma che poi bisogna andare così lontano perché ognuno ce l'ha, un Silvio Calamaro in famiglia, uno che poi a un certo punto non lo chiamiamo più perché diventa sempre più difficile comunicare con lui. Lui allontana, noi siamo vigliacchi, lui è sgorbutico, non vuole comunicare più con nessuno, quindi a poca la volta, a poca la volta, a poca la volta, lo lasciamo al suo destino. Ecco, va dove vuoi tu. E quindi questo è proprio una patologia sociale che si chiama solitudine sociale. Quindi alci dei muri verso tutti, nel caso del tuo personaggio, persino verso i figli. E la cosa che più preoccupa è che le persone lasciate da sole hanno il cervello che si guasta, perché il cervello è concepito per la vita. Siamo animali sociali. Animali sociali che si retica, insomma, in qualche modo. Per cui da soli, a poca la volta, a poca la volta, come un muscolo che funziona sempre peggio, per cui è sempre più incapace, sempre meno capace di ricevere, di reagire ai stimoli esterni. Ci vuoi dire proprio un piccolo brano? La poesia di Natale. No, la poesia del spettacolo, sì. Cioè, declinarci, noi vediamo le mani, declinarci, questa anoressia dell'anima, però in maniera, diciamo, arretta. Io sono venuto qui solo per scoprire il gobo che legge lui quando dice le sue cose. Ma non c'è gobo? Non utilizza gobo, assicuro. Ha un gobo interiore proprio, che gli scorre dentro. Invece poi, adesso l'ho fatto anche una settantina di volte, lo spettacolo, però in questa sede magari me lo dimentico. E poi tu provi lo stesso. No, perché questo personaggio, questo Silvio Canamano, ha un solo grande talento, quando ero piccolo, quando stavo a Napoli, un solo grande talento, piangevo moltissimo. Però non ero triste, solo che piangevo. Mi chiamavano la grondaia. Poi a un certo punto ho pianto sempre meno, sempre meno, sempre meno. Sembra che adesso è proprio tanto tempo che proprio non mi faccio uno di quei bei pianti, quelli che proprio ti liberano, che ti fanno sentire bene dopo, no? Essere finita l'acqua, evidentemente. Eppure ogni mattina che mi sveglio, io mi aspetto il miracolo. Mi dico, succederà oggi un fatto che mi commuove, che mi emoziona. E invece no, almeno non per me. A me i fatti degli altri, poi, tutto sommato, non mi riguardano. E così, in un quarto d'ora di prima mattina, butto via le speranze della mia giornata. Mi restano le passeggiate silenziose, i segreti inutili. Mi resto io. E non mi basto. Ultimamente no. Ci sono certo gli autori che ancora leggo, le musiche che ancora ascolto. Il mio paese interiore è un paese spopolato. È un paese privo di abitanti, dove ogni tanto arriva lo straniero, l'alieno. La famiglia non mi è più familiare. E i figli e i fratelli sono gli estranei più dolorosi. Certo, però un'immagine che il futuro di ieri e oggi per forza ti scoraggia, no? Dio passa e non lo si riconosce se non di spalle, cioè quando è già passato a cose fatte, proprio come la vita. Signor Lando, andiamo a vederlo al teatro Farenzi. Allora, grazie, signor. Avevi il terreno che ti facevo tutto lo spettacolo? No, ma io non ero qua. Stavo... Grazie. 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 Grazie.